Io penso che nel mondo non ci sia un allenatore contento di andare a fare una tournée in questo momento. Sono tutte cose che gli allenatori subiscono, qui non c'era questa necessità, non c'erano contratti in essere per fare queste cose, quindi è stato naturale rimanere qui, faremo qualche ammievole internazionale nei prossimi 12 giorni, però visto che non c'erano obblighi contrattuali abbiamo fatto la squadra di calcio vera, abbiamo fatto il ritiro con l'amievole nella sede del ritiro, nella normalità, penso che vorrebbe fare alcuni allenatori.